difficoltà il paese Cantone che i giorni scorsi ha concluso la relazione finale sulle appalti nel Comune di Roma sono scoppeso e sconcertato dice Marino, dalla dichiarazione di Cantone parlare di continuità tra la mia giunta e quella di Aleman è un giudizio politico praticamente infondato poi l'accusa di Marino al Presidente Anac di disonestà intellettuale vedete nel nostro flash c'è una larga istituzione che ha portato alla chiusura del Consolato e della scuola tedesca a Istanbul ma anche della lasciata tedesca ad Ankara rimase chiuse in virtù di una possibile minaccia a sicurezza secondo quanto è diffuso dall'Ministro degli Esteri di Berlino per gli stessi motivi e lo vediamo qui durante la scuola tedesca di Istanbul la minaccia è un corso di verifica in Brasile risponde la protesta a manifestazioni contro militari del governo contenuto all'ex Presidente Lula da Silva a Midiaia lotta l'unità paulista nel cuore di San Paolo 50 persone scendono in strada davanti al palco della Presidenta a Brasilia ma gli stagli si stagliano troppo la decisione del governo di Giuseppe di nominare Lula capo di Giazio di scuola mettiamo di godere così dell'immunità quante eccezioni interattute rivolte dalla Forza Suprema in questo modo Lula intagato per produzione il scandalo per il propras potrà aiutare al momento il processo e anche il possibile arresto fare di finale amare in Champions League a terra la Juventus i bianconeri che vanno all'un sottio dall'impresa poi la BEP dei menti diretti e poi la scuola è supplementare vediamo come con Gianni Ciacotti a la scuola è un'altra casa l'ultima campione di Germania e poi di fermata da Bayern con 4-2 che Grazie. 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 Grazie.